Incendio a Bregnano all'esterno di un capannone in via San Francesco. Per causa ancora da chiarire, una tettoia di un'auto rimessa ha preso fuoco. Il rogo ha coinvolto anche una vettura in sosta, distrutta dalle fiamme. Nell'area, secondo le prime informazioni, era depositata anche una bombola di GPL. Il contenitore di gas, probabilmente proprio a causa del calore dell'incendio, è esploso. Un forte boato che ha creato un grande allarme tra i residenti della zona. Dopo la segnalazione dell'incendio e dell'esplosione, sono intervenuti i vigili del fuoco, dei distaccamenti di Appiano Gentile e Saronno. I pompieri hanno spento le fiamme e rimesso in sicurezza la vettura bruciata e l'intera area. Sono intervenute anche un'ambulanza e l'automedica del 118, perché inizialmente c'era il timore che potessero esserci persone coinvolte nell'area dell'esplosione e dell'incendio o nella vettura avvolta dalle fiamme. Fortunatamente invece non ci sono persone ferite né intossicate, ma solo danni materiali. Accertamenti in corso per chiarire la causa dell'incendio.